Allora, io l'ho visto l'altro ieri mio fratello, l'ultima volta che l'ho visto, cioè così di sfuggita, che lui lavorava perché lavora vicino a un ristorante dove lavoro io, è l'ultima volta che l'ho visto. Ma da casa manca da ieri sera? Da manca, sì, da casa, è andato a pranzo ieri, è uscito da casa verso circa l'una meno un quarto per regarsi sul lavoro, è andato sul lavoro e l'ultima volta che l'hanno visto i ragazzi era all'incirca alle due. Perché lui è un operaio? Lui è il proprietario dell'impresa, l'impresa Edile. Quindi i suoi operai l'hanno visto intorno all'una? I suoi operai, sì, dopo pranzo l'hanno visto all'incirca fino alle due, poi è scomparso da lì, diciamo, dal posto di lavoro, è uscito fuori il cangello, da lì che non sanno più tracce. Lui è senza macchina, il telefono è spento da ieri e niente, non si sa più niente, non si sanno più notizie. Lui disse che aveva un appuntamento, ma... Ha il telefono spento praticamente? Sì, il telefono è spento. E lui ha detto di andare ad un appuntamento? Sì, che doveva andare ad un appuntamento, però con chi? Dove? Chi l'ha preso sul posto di lavoro per portarla ad un appuntamento? Nessuno l'ha visto allontanarsi? Nessuno l'ha visto allontanarsi da lì. Ecco, avete fatto scattare le ricerche, su che cosa stanno lavorando i carabinieri? Stanno lavorando sui tabulati telefonici, sulle ricerche, i carabinieri di Vallo, della Lucania, di Ascea... Ecco, suo fratello sposato con due figli? Sposato a due figli, sì. Ma aveva delle preoccupazioni particolari negli ultimi giorni? Ma nessuna preoccupazione a quando sappiamo... Cioè, nessun problema aveva neanche sul lavoro, diciamo. Sì, problemi così di lavoro, diciamo, di tutti i giorni. Ma non erano problemi da poter permettere di allontanarsi di casa. Cioè, lui volontariamente, questo intendo io. Non aveva mai dato segnali di particolare preoccupazione negli ultimi giorni? No, di questo no. No, di questo no. Ecco, la sentiamo lei, insomma, la voce provata. È chiaro che è un momento sicuramente particolare. Eh, purtroppo sì. Ecco, lei, avete fatto un appello, ecco. Sì. Lo vogliamo rinnovare anche attraverso la sua voce. A chiunque potessi avere notizie di farsi vivo. Di farsi vivo. Anche il minimo dettaglio, una minima cosa. Se l'hanno visto da qualche parte, in un bar, qualsiasi parte. Io ho messo anche il numero mio a disposizione su Facebook, il numero dei carabinieri. Qualsiasi cosa per noi è importante. Per ritrovarlo.